Cari amici, compagni e compagni, buonasera. Prima di tutto mi devo scusare per il ritardo. Sapete, certe volte l'aereo da Atene fino a Venezia fa un'ora e mezza, questa volta ha fatto da l'una e mezza fino alle nove e mezza. E poi mi dovete scusare perché il mio italiano non è che tanto il migliore, ma farò il migliore. Io vi devo graziare, un grande grazie per il vostro invito di essere fra di voi. Io sono Simorellis Christos, deputato di Sirisa, deputato del Parlamento greco. Sono eletto per prima volta. Ti porto un caloroso saluto dal governo di Tsipras, dalla direzione di Sirisa, ma sopra tutto un caloroso saluto da piazza di Sintagma, dove ieri miliai di gente ha gridato basta con la austerità in Grecia, basta con la austerità in Europa. Io sono qui, ma il mio cuore, il mio pensiero è con Tsipras. Con gli altri compagni che in questo momento a Bruxelles trattano con Merkel, con Draghi e con gli altri. Trattano per un futuro migliore per la Grecia. Un futuro senza austerità, senza memorandum. Mi trovo qui, fra di voi, che con il vostro grido, che si sente su tutta l'Europa, un'Europa che oggi è l'Europa di fondi monetarie, un'Europa della Banca Europea Centrale, un'Europa di Merkel, un'Europa che dobbiamo cambiare. Sono molto contento di essere oggi con voi perché sono molto bene che dall'inizio della crisi siete stati sempre al nostro fianco e avete organizzato e partecipato in tantissime iniziative al sostegno del nostro popolo. Siamo in una fase molto difficile e complicata. Non è una questione economica o finanziaria per l'Europa che ha bruciato già 4.000 miliardi di euro nel pozzo senza fondo per salvare le sue banche sacrificando i suoi popoli. È una questione profondamente politica perché l'Europa neoliberista non accetta il suo fallimento e per di più di fronte di un piccolo popolo di quasi 12 milioni che ha mostrato un'enorme vitalità di riprendere il suo futuro nelle sue mani dopo 5 anni di durissime lotte per la sua dignità. Loro stesse hanno ammesso che le loro politiche hanno provocato una crisi umanitaria in un paese di eurozona. Perché insistono a imporci le stesse politiche? Perché insistono che dobbiamo tagliare stipendi e pensioni? che dobbiamo continuare a licenziare la gente e cancellare i nostri diritti? Il governo di Tsipras non firmerà un terzo memorandum perché il nostro popolo non si ricatta da chi cerca di creare un problema di liquidità del nostro sistema bancario speculando sulla industria della paura e sull'uscita di paese dall'eurozona per alimentare l'attenzione. La vera forza di Siriza nelle trattative con le istituzioni è il sostegno del popolo greco un popolo che continua a scendere in piazza contro l'austerità. L'ultimo sondaggio pubblicato domenica, ieri porta Siriza al 47,5% ripeto, 47,5% mentre la nuova democrazia crolla al 19% il 50% dei greci sostengono il mondo che il governo di Alexis Tsipras porta avanti le trattative e il 62% crede che il governo non deve cedere alle pressioni dei creditori. Il sostegno al governo di Tsipras è dovuto alla politica che abbiamo applicato a favore della gente colpita della crisi dei cinque mesi che siamo al governo. Abbiamo fatto un'legge contro la crisi umanitaria offrendo elettricità a 30.000 famiglie sostegno economico per pagare l'affitto ad altre 30.000 famiglie buoni per alimentare e assistenza sanitaria. Abbiamo riassunto le combattive donne delle polizie del Ministero della Finanza che hanno scritto una pagina meravigliosa di unità e di lotta. Abbiamo riportato finalmente nelle nostre scuole il loro custode. Abbiamo riaperto la televisione pubblica e abbiamo assunto 2.400 insegnanti nelle scuole pubbliche e 4.000 persone ai nostri ospedali pubblici devastati dai tali dei memorandum. Abbiamo preparato la legge per il pristino della contrattazione collettiva del lavoro e nei prossimi mesi aumenteremo lo stipendio minimo. Abbiamo fatto tante cose in così poco tempo che abbiamo sorpreso anche i nostri avversari per la nostra capacità di mettersi a ricostruire subito il nostro paese dalle macerie del memorandum e di creare alle nostre gente la speranza che il governo tratta con un solo obiettivo trovare una soluzione definitiva alla crisi attraverso un accordo onorevole tra le parti. La soluzione passa attraverso un accordo per un debito impagabile come sono tutti i debiti del paese del sud Europa la polizioni fiscal come back che si permette di creare posti di lavoro veri attraverso un piano forte di investimenti pubblici politiche che si muovono in senso contrario alla mazzalleria sociale che impone l'Unione Europea e il sitore finanziario specialmente nel sud Europa rifiutando l'applicare l'austerità diamo una forte segnale di cambio in Europa e questo non voglio non cittare loro perché se cambia la Grecia cambierà anche l'Europa come dice il slogan della pello che vede affermato Luciana Castellina Stefano Rodotà Marco Revelli Susanna Camuso Maurizio Luantini e tanti altri e l'Europa cambierà grazie alla lotta dei suoi popoli in Europa abbiamo visto con grande gioia la vittoria delle liste di unità popolare e tipo Temus a Madrid Barcelona e Saragossa il lotto triunfo nelle elezioni amministrative a settembre si vota in Portogallo e si licenza il governo di austerità di Coelho a novembre si vota in Spagna dove potremmo se le forze progresive contro l'Austria cittio cercherano che prende il governo dal limane di Rahòi a febbrai si vota in Irlanda dove i nostri compagni di Sinfein sono primi nei sondaggi e datano do tempo l'Europa cambia con i suoi cittadini e le suoi società in piedi questo il nostro messaggio contro il neolibirismo il populismo le destre naziste raciste e omofobe per la nostra di Londra e Parigi di Bruxelles di Amsterdam in Germania quelli che preparano a Lisbona che seguono la grande manifestazione di febbraio a Roma si animano a resistere e continuare a trattare con la testa alta con il neolibirismo e il neolibirismo attiva attiva dei cittadini questa è l'unica forma di democrazia che riconosciamo grazie spero che ho fatto il migliore il migliore grazie io ringrazio Cristos perché penso che che ci abbia veramente dato delle indicazioni su come sia effettivamente possibile rispondere a questi nodi problematici della Costituzione europea a partire da un rifiuto dell'austerità da una difesa dei diritti del lavoro e dei diritti sociali senza però rimanere diciamo confinati all'interno solo della penisola greca ma rivolgendosi direttamente all'Europa e ringraziamo anche per il riconoscimento diciamo della solidarietà che abbiamo sempre cercato di esprimere nei confronti del popolo greco così come del governo di Siriza e penso che la chiusura del tuo intervento sia molto molto interessante perché ci dà anche la possibilità di poter parlare di un nuovo tipo di esperienza di forza politica di innovazione istituzionale sempre il rapporto con quella che hai chiamato la democrazia delle piazze perché noi riteniamo che qualsiasi tipo di verticalizzazione qualsiasi tipo anche di attraversamento delle istituzioni che ovviamente viene fatto in maniera contraddittoria debba sempre partire dalla movimentazione sociale che effettivamente cambia i rapporti tra le persone che in prima istanza si sbarazza dell'individualismo così come del razzismo che in questi giorni sta diventando e si sta rendendo sempre più visibile come piaga e che soprattutto poi dia sempre come diceva Giso quel tipo di indipendenza da parte delle piazze e delle strade che permette di superare i limiti che poi un governo può incontrare nella governance multilivello che ci troviamo ad affrontare qua giù in Europa se mi permette per gli immigrati una parola certo assolutamente una parola per gli immigrati perché la Grecia e l'Italia sono gli unici paesi e il paese l'Italia e la Grecia che vengono tanti io vi voglio ricordare una mia esperienza quando non lontano nel 1072 972 sono arrivato in Italia quando erano i colonnelli in Grecia a Bologna mi hanno dato casa mi hanno dato cibo mi hanno fatto studiare io trovo l'occasione di ringraziare tutti i coeli che mi hanno aiutato che ho trovato un'accoglienza la stessa cosa dobbiamo fare anche oggi tutti i coeli che arrivano dall'Africa dalla Syria li dobbiamo accogliere bisogna aiutarli bisogna fare l'Europa il suo dovere grazie